Il giorno dell'ultimo saluto a Gabriele sarà lutto cittadino, lo ha deciso il sindaco di Caprese Michelangelo Paolo Fontana. Gabriele Casi, 20 anni, residente nel comune dell'Alta Valtiberina, è morto schiacciato da un albero mentre stava lavorando con il padre in cima all'Alpe di Catenaia. Era dipendente dell'azienda del padre Sauro e secondo le prime ricostruzioni sembra che il terribile incidente sia avvenuto mentre Gabriele aiutava il padre a liberare una motosega che si era incastrata in un tronco. L'albero era stato fissato ad un verricello per aprire il tronco e liberare il macchinario. Gabriele durante la manovra sarebbe sceso dal trattore e l'albero lo avrebbe travolto colpendolo in più punti. Il padre ha chiamato immediatamente ai soccorsi, la zona tra l'altro era impervia e difficile da raggiungere. All'arrivo dei sanitari Gabriele era già morto. È questa la probabile ricostruzione dell'accaduto ma il PILS dell'ASL continuerà le indagini assieme ai carabinieri. Sul caso è stata aperta un'inchiesta come richiede la prassi. Sull'episodio è arrivato anche il commento della CGL Toscana. Si lavora per vivere e non per morire, afferma Mauro Fuso. La CGL si stringe intorno alla famiglia ma non rassegniamoci. Non abbandoniamo l'idea che si possa lavorare in sicurezza perché il futuro del lavoro di qualità non può essere un tunnel buio nel quale si entra senza più trovare la via d'uscita.